Procede a grandi passi il progetto degli impianti di urbanizzazione primaria a ovest di Gela. Al comune si sono ritrovate le parti coinvolte nella realizzazione delle reti idriche e fognarie comprese tra il depuratore di Machidella e la frazione di Manfia. Fatti salvo progetto e finanziamenti, i problemi sollevati da Caltacqua sono stati superati dai pareri acquisiti al tavolo convocato dal sindaco Domenico Messinese. Per il funzionario della sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, Salvatore Collura, le opere previste in quanto interrate non mutano l'aspetto esteriore del bene tutelato in area A3, mentre l'impianto di sollevamento ricade in area A1, non sottoposta a vincolo. Il parere di competenza dunque potrà essere rilasciato. Anche il libero consorzio di Caltanissetta non ha posto problemi per le concessioni che potranno essere consegnate rispettando le prescrizioni. Sulla titolarità delle aree invece il dirigente comunale del settore lavori pubblici Santi Nicoletti ha rassicurato sul fatto che una delibera del 2012 conferma come le strade interessate dei lavori siano acquisite al patrimonio comunale. Ci poniamo in prossimità di un obiettivo che corona mesi di lavoro della giunta comunale, ha detto il sindaco, proprio nelle stesse ore in cui abbiamo appreso delle autorizzazioni regionali per il potenziamento del depuratore consortile e di Macchitella. Ci avviamo sempre di più alla conferenza di servizi decisiva per recuperare decenni di ritardi ai danni della civiltà negata alle nostre periferie. I prossimi passaggi riguarderanno la posizione dell'ANAS e l'interferenza di progetto presentata da privati, mentre la regione dovrà esprimersi con la valutazione di incidenza ambientale. Al tavolo hanno preso parte lato CL6, Caltacqua, il libero consorzio e la solitendenza ai beni culturali ed ambientali di Caltanissetta. Per il comune di Gela erano presenti il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici Flavio Di Francesco, quadruvati da Santi Nicoletti e Mario Cernigliaro.